La situazione in Italia, come ha detto Ganapini, e siamo chiari, continua a peggiorare e faccio una denuncia immediata, mancano i dati persino dell'ISPRA. Noi non sappiamo in questo momento quanti rifiuti industriali produciamo e dove. Può ripetere la denuncia? Denuncio in questo momento che siamo in ritardo dal 2010 nella produzione e diffusione dei dati sui rifiuti speciali, industriali e tossici in Italia. Quello che andava fatto ogni anno in modo puntuale per dire a tutti quello che facciamo e dove dobbiamo intervenire, al momento è in ritardo di ben 4 anni. E stiamo parlando di ritardi mortali, ogni giorno abbiamo più di 1000 casi di cancro di cui almeno il 30% dichiaratamente per cause ambientali. Lei mi sta dicendo che non sappiamo dove vanno a finire rifiuti speciali? Non sappiamo innanzitutto quanto ne produciamo, non sappiamo dove vanno smaltiti, non abbiamo nessun sistema di tracciabilità certo e non cartaceo. Continuiamo a dare i MUD che era la base del gioco del giro bolla che ha massacrato la mia regione.